In Calabria, nell'arco del periodo 2019-2025, è previsto un ammanco di 1.410 medici. La stima emerge da uno studio del sindacato Anao Assamed che ha disegnato una mappa delle carenze di medici specialisti regione per regione. Le insufficienze principali, secondo lo studio, riguarderanno la medicina d'urgenza, per la quale mancheranno all'appello 245 medici. A seguire l'anestesia e la rianimazione con 63 medici, la ginecologia con 51, la chirurgia generale con 90, la pediatria con 150 e la psichiatria con 90 medici. Da un confronto tra fabbisogni dichiarati dalla regione e previsione di medici in pensionamento nel periodo 2019-2025, riporta lo studio i primi risultano sottostimati di 1.093 unità. Incomprensibili alcuni numeri di fabbisogni espressi della regione, medicina d'emergenza-urgenza, medicina del lavoro ed ematologia con zero medici, ma contemporaneamente si richiedono ben tre dottori dello sport all'anno e tre genetisti. In tutto sono nove i contratti di formazione finanziati dalla regione, spalmati su branche non in sofferenza.